È vero, quando parliamo con un cliente o un collaboratore possiamo anche emozionarci e l'emozione può giocare brutti scherzi. Come facciamo allora a parlare e interagire con le persone? Soprattutto nelle relazioni professionali? Ecco una sessione di domande e risposte proprio su questo. Come si fa a non emozionarsi quindi prima di prendere parola? E poi, se il cliente non mi sta più ascoltando, cosa faccio? Alzo la voce? Boom! Come ci esercitiamo poi sulla buona scansione delle sillabe in modo che quando parliamo si comprendano bene tutte le parole che noi diciamo? Come rispondere a un cliente coinvolgendolo davvero sul suo contenuto? E infine ci chiediamo se sia vero che non importa tanto quello che dici ma importa soprattutto come lo dici. Vediamo. E se ancora non lo sai, io sono Stefano Todeschi. Sono consulente e formatore specializzato in public speaking pratico. Eh sì, perché per parlare bene con i clienti, i collaboratori, i colleghi e le colleghe bisogna fare la pratica. E allora ti consiglio due passaggi. Uno, iscrizione a questo canale YouTube. E attiva la campanella, mi raccomando. Due, iscriviti al seminario gratuito. Improvvisare parole e discorsi. E vediamo allora la sessione domande e risposte. Questa è la versione Director's Cut di una diretta che è andata in onda all'inizio di quest'anno. E mi raccomando, se hai le tue domande, scrivile qua sotto nei commenti, ti rispondo proprio qua sotto e magari giro un video appositamente proprio sul tema che tu avrai sollevato. Buon divertimento! Come si fa a non emozionarsi prima di prendere la parola? Una domanda che ricorre ed è evidentemente una domanda particolarmente sentita. Come si fa a non emozionarsi prima di prendere la parola? La domanda che io giro in quanto risposta è ma perché non dovresti emozionarti? Cioè perché durante un'interazione con le persone dovremmo essere indifferenti? E allora qualcuno obietterà. Ma sì, ma emozionarsi nel senso di non essere preda, vittima dell'emozione, a tal punto di avere il terrore di aprire la bocca per prendere la parola, e soprattutto sentire queste palpitazioni inibenti mentre sto per intervenire, vorrei dire qualche cosa, oppure con il rischio che qualcuno mi faccia una domanda, adesso come rispondo, sudorazione delle mani, bocca asciutta, eccetera. Questo sì è quel tipo di emozione che non gradiremmo avere bene, non gradiremmo provare, assolutamente questo ci sta. Ricordiamoci una cosa, che quanto più guardiamo qualcosa, tanto più la vediamo. Il focus allora deve essere non tanto sulla nostra emozione, lo so, è impegnativo, lo so, ma il focus deve essere, guardate che mi ricollego alla domanda di prima, deve essere sul contenuto. Che cosa stanno dicendo le persone? Come posso intervenire io? Cioè che cosa posso chiedere in più? O che cosa posso aggiungere la mia semplice opinione su questo? Sono d'accordo? Non sono d'accordo. Come faccio a non emozionarmi? Devo emozionarmi. Devo emozionarmi e devo emozionarmi tenendo il focus sul contenuto, non sulla mia prestazione che non importa a nessuno, di cui, scusate, non importa nulla a nessuno. A nessuno interessa se io sono bravo, non sono bravo, sono bello, sono brutto? Alle persone ad eventualmente interessa che cosa io penso di quel contenuto. Quindi è importante emozionarsi, è fondamentale. Io sono emozionato prima di una diretta, sono emozionato, sono talmente emozionato che se prendessi un caffè impazzirei, perché avrei le palpitazioni che mi farebbero esplodere il torace. Ma sono emozionato, devo essere emozionato, perché altrimenti significherebbe che non me ne importerebbe nulla. E questo è fondamentale. Ecco qua, a volte mi accorgo che il cliente non mi sta più ascoltando, così alzo la voce ed è come se lo svegliassi. Cosa mi pensi? Alzi, la voce è come se lo svegliassi. Sì, ma potrebbe anche essere interessante questo. Altri modi potrebbero essere stare zitti. Quindi sì, puoi alzare il volume della voce e ad un certo punto improvvisamente tu lo svegli. Prova a stare zitto. A un certo punto silenzio. E quindi le persone cominciano a chiedersi perché c'è silenzio? Che succede? Oppure, un'altra tecnica, il volume della voce è più piano. Quindi parlare, per esempio, sottovoce, improvvisamente. E perciò più piano il volume. Oppure decelerare il proprio modo di parlare. O accelerarlo improvvisamente, parlare in modo molto più veloce. Insomma, fare variazioni espressive. Tra cui anche, sì, va bene. Alzare il volume della voce. Però non sembra, perché altrimenti si ottiene quell'effetto fastidioso. Indico delle pubblicità alla radio. Penso anche la tv. Per cui ad un certo punto arriva la pubblicità e boom! Il volume viene sparato a mille. Quindi variazione espressiva. Quando mi esercito sulla scansione delle silbe, devo sempre usare lo stesso testo? Sì, questo è interessante. È riferito, tra l'altro, alla risposta alla domanda precedente. No, ovviamente no. Cambiate testo. Quando fate degli esercizi, cercate di variare strumenti, testi, riferimenti, contenuti anche. Perciò è meglio cambiare. Certo. Puoi fare un esempio di come rispondere ripetendo le parole della domanda. Rispondere ripetendo le parole della domanda richiede attenzione rispetto alla domanda stessa. Significa cioè riprendere le parole della domanda come ho fatto poco fa quando ho risposto. Questo è un modo per agganciare l'interesse delle persone, per dimostrare che le abbiamo ascoltate e soprattutto per prendere tempo quando dobbiamo rispondere. Ma prendere tempo non perché dobbiamo inventarci chissà che cosa, creare cose così che non esistono o magari mandare contenuti che nemmeno condividiamo. Al contrario, prendere tempo perché così riusciamo a fare ordine nelle nostre idee. E ripetere le parole dell'interlocutore ci permette di fare ordine rispetto ai contenuti di reale interesse dell'interlocutore. È vero che è più importante come dici le cose rispetto a quello che dici? No. Qui rispondo nettamente. No. No, assolutamente no. Sì, c'è quella famosa ricerca di Merabian, Albert Merabian, che direbbe, che sosterrebbe, che ci sarebbe una percentuale molto alta per cui dell'importanza del linguaggio paraverbale rispetto, pardon, del non verbale, paraverbale rispetto al verbale. Ma è una ricerca che fu condotta in una situazione emotiva particolare, cioè durante un conflitto tra i soggetti coinvolti nella ricerca. Quindi è chiaro che se io ti sto parlando e sto usando un tono aggressivo, sì, questo è un messaggio, il tono aggressivo, che senti più forte indipendentemente dai contenuti, cioè più forte rispetto ai contenuti, quindi alle parole. Ma le parole sono fondamentali, le parole sono la parte più importante. Dopodiché questa distinzione tra la forma e il contenuto è una distinzione che può anche perdere di valore, perché il non plus ultra sarebbe avere una uniformità tra forma e contenuto. Cioè praticamente la forma, il modo in cui noi porgiamo le parole, anche per esempio il nostro modo di gesticolare, le nostre intonazioni, i nostri volumi, i nostri ritmi, l'eloquio, ma anche gli oggetti che possiamo utilizzare per mandare messaggi, per cui i famosi pro, cioè gli oggetti che utilizziamo, che ci possono servire simbolicamente oppure anche oggettualmente, perché per esempio io sto parlando di questo pennarello e allora lo mostro. Cioè tutto ciò che noi facciamo costituisce già contenuto. Quando io infatti comincio a parlare più lentamente, sto mandando un contenuto, e questo, e perciò non è vero che sia forma. Sì, è forma se vogliamo proprio essere pignori e classificare, ma è soprattutto contenuto. Sto indicando che c'è un momento di calma, c'è un momento di raccoglimento, per esempio. E lo stesso contenuto diventa forma. Chiaro che è più semplice, per esempio, in poesia, dove abbiamo figure retoriche come la consonanza, l'assonanza, le alliterazioni, e cioè le onomatopee, dove la forma delle parole, la costituzione delle parole stesse, è determinante da un punto di vista del contenuto e della forma. Cioè, diciamo, sono una cosa unica, forma e contenuto. Quindi, più importante la forma e il contenuto, le parole sono più importanti, ma la distinzione a volte è molto, molto sottile tra contenuto e forma. E allora ti consiglio due passaggi. Uno, iscrizione a questo canale YouTube. E attiva la campanella, mi raccomando. Due, iscriviti al seminario gratuito. Improvvisare parole e discorsi.